Grazie a tutti. Ti accorgi se tira? Eh? Ti accorgi se tira. Ti accorgi se tira? Eh no, dalle testate. Staccarsi l'amo dalla bocca e spesso ci riesci. Che bello! Eh? Mamma che bello! Aspetta, ti apro qua. Pianino che c'è. Non mollare la canna. Recupera, c'è sempre lui. Non devi smettere, adesso la alzi piano piano e recuperi, non ti devi fermare. Se ti fermi lo perdi. Fammi vedere. Recupera sempre, non fermarti. Adesso alza la canna. Recupera sempre comunque. Recupera sempre. Che bello! Che bello! Lì è come il mio! Vieni di qua piano, vieni di qua a sinistra. Piano. Piano. Piano che è grosso. Lascia stare, lascialo stare. Tieni la canna dritta. Tieni la canna dritta. Così, così, tranquilla. Ecco, ferma. Eccolo qua. Ora che bestia! Bello! Vai! Questo stava iniziando a mangiare. Ho visto la punta che invece di venire su, si è bloccato un attimino. No, non devi tenere il filo molle, deve essere sempre in tiro. Però, come lo molli, devi vedere che tocca al fondo. E per vedere che tocca al fondo, ecco qua, deve fare quel lavoro lì. Ma come viene su strano questo? Non dà crapate? Ma che è? Sembra che venga su appeso morto. Una scarpa vecchia? Eh! C'è panna scarpa! Sì, che ponte no! No! Ha mangiato, ha mangiato! Al chi, al chi, al chi? Al chi che adesso si sveglia? Perché? Non ha nemmeno la scarpa vecchia. Eccolo che si sveglia. Ti ha detto, qui va a finimale. Eccolo qua. Preso nella schiena, ecco perché tirava. Di fianco. Ecco. L'alia mi sta facendo secco. Zitto! Por cassa, Eva! Oh! Le si attaccano da soli. E l'amo è sempre quello. Ne ho già persi due però. Eh, lo so. Dai, con quella canna qui non li perdi, dai. Brava Lia, dai! Vai, vai! Via che testate, vacca! Pom pom, sentilo! Quando arrivi in alto, che senti il nodino, ti fermi e alzi la canna. E non ho un'altra montatura uguale, mannaccia! Le ho a casa, ma si può. L'avevo detto, hai preso su tutto. Ssssss! Sì, ma ne ho troppe, dai! Ecco, ma sei bello. Basta, basta, non tirarlo su. Vieni qua. Vieni qua. Brava! Mamma, che bei lavarelli! Un'altra! Bello! E' già sul fondo. Bene, ma è piccolino questo. Ehm, perchè? Perché è piccolo. No, non ci fatti. No, non ci fatti. Vedi, bisogna continuare a recuperare piano piano. E' andarci a dietro. Se lui si inchioda, gli lasci un po' spazio. Guarda. Vedi che sta tirando giù. Devi dare filo. Se no, si spacca l'amo. Si spacca la bocca. E' un po'. Vai su un po' fino lì. No, vi devo dare. No, non ci fatti. Perchè conserva quelle le le leggi. Lecchi. Da, è bello. Piccio la. Eh sì. È bello su. Aspetta, aspetta, aspetta. pensa al tigre come il mio di prima c'era quei due che mi sono persi tiravano come delle bestie sembravano due tonni era la canna bella piegata ostrega perché vai di qua che mi attacchi il pesce ostrega ma hai attaccato il pesce vieni di qua adesso ma che casino ma no perché sei venuta di qui col filo guarda come mi ha attaccato tutti gli ami è lui che si è attaccato ma io ero giravo di là ma guarda dove hai la canna è bravo è stato il pesce che l'ha preso mica io il pesce si è agitato e mi ha preso anche me guarda 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 verso l'uomo guarda guarda se va mia via è un bel magatel guarda 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 guard Vedi bisogna lasciarlo andare così, dopo quando viene in su recupera le pianche. Non è grosso però il Val Nerviglia. Si va da fare, vuole scappare. Guarda che belle quelle montagne. Piano piano, non fare lo stronzo. Che cazzo tiri all'argo? A lei che squaccia la testa. Guarda che bello. Bello. Bravo Pappo. Guarda che è bello. Guarda che cazzo tiri all'argo. Tira, tira, tira. Alba, alba, alba. Alba, alba, alba. Alba, alba, alba. Mamma. mamma mamma un altro? eh ma grosso Chiara guardiamo il tira sotto vedo quando tira così spazio o si sganciano e va capitana Eva o l'attacca fuori magari è attaccato in una pinna oi 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 aspetta 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 vai lì seduta oi 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 ai 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 ho paura che sia attaccato fuori non so non è grosso è che fa più attrito perché va dove ne voglia lui beh anche in medicina va dove ne voglia a dire tutte le polemie sfursai perché si è attaccato fuori si spacca la panna sei in una pinna noi questa è bella di pesca eh per me la pesca più bella l'attacca si lascio l'attacca che guarda che roba non è da ributtare ora che roba ci siamo divertiti ne ho tirati su 4 guarda che roba è stato bello stamattina sì cioè stamattina che bella pescata noi ce ne andiamo a casa ci siamo divertiti abbastanza grazie